Ora la scioppi eh? Allora, intanto stiamo calmi ragazzi, stiamo calmi, se dico che scioppo, scioppo! Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video su Suspect Villa Misteriosa Diciamo che Suspect sta davvero facendo il botto, addirittura ogni tanto non si riesce a giocare perché c'è veramente una fluenza pazzesca E quindi ragazzi, nel video precedente di Suspect vi avevo promesso che avrei scioppato se arrivavamo a 300 like Ovviamente li abbiamo strasuperati, infatti dovrei iniziare a chiedere molti più like E quindi oggi sciopperemo la skin leggendaria del vampiro Tra l'altro me l'avete scritto sotto nei commenti, ora scioppa, ora scioppa! Addirittura questo commento un po' minaccioso, eh no adesso scioppi! Ovviamente non me la sono presa per il commento, era giusto per scherzare In ogni caso vi ricordo sempre di lasciare un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e condividete il video con i vostri amici Io vi ricordo anche di seguirmi su Twitch perché giochiamo insieme a Suspect e quindi anche voi potete partecipare Adesso ragazzi andiamo a parlare della skin perché voglio acquistare la skin leggendaria del vampiro Che va a cambiare anche le animazioni quando noi giochiamo Se non lo sapete, alcune skin leggendarie non sono disponibili per tutti i personaggi Quindi ad esempio se io vado a selezionare Buck e clicco nel negozio La skin del vampiro non c'è, invece su quasi tutti i personaggi tipo Chippy la trovate Ma personalmente io preferisco acquistarla su Finn Quindi adesso andiamo nel negozio, signore e signori stiamo per scioppare la skin leggendaria Addirittura la possiamo anche provare, come vi ho già detto cambia le animazioni in gioco quando voi uccidete qualcuno E quindi scioppiamo, che bello scioppare raga Ta-da! La nostra bellissima skin da vampiro Adesso andiamo subito a cambiare la skin al nostro Finn Raga ho veramente tantissime skin che ho sbloccato tramite il pass Comunque selezioniamo la skin vampiro Infatti qui viene riempita anche la casella animazione e esecuzione Se clicchiamo ci viene mostrata l'animazione che in realtà abbiamo già visto Comunque è molto carina questa skin, mi piacciono soprattutto gli occhi rossi Va bene raga, io la voglio assolutamente provare Spero tanto di fare l'assassino così eventualmente vediamo anche l'animazione Però sicuramente farò l'ospite E vai! Sono l'assassino e adesso andiamo a vedere la skin insieme Ma ragazzi, che emozione! Allora, il nostro compagno è Riki Giochiamo bene, dai non mi voglio far scoprire subito Non voglio farmi scoprire subito però allo stesso tempo vorrei uccidere qualcuno Vorrei uccidere qualcuno Vediamo, intanto facciamo un sabotaggio E vediamo se riusciamo a uccidere Perché voglio... sono super curiosa di vedere l'animazione Innanzitutto la skin è veramente carina raga E... è super super carina Mi piacciono tantissimo gli occhi E soprattutto i pipistrelli che si muovono E soprattutto i pipistrelli che si muovono Io ho uccido sempre la gente in posti scomodi E poi vi faccio beccare raga Su Among Us sono un pochino più brava Ups Ups Mamma mia, l'ho rincorso malissimo raga Ah no, Rick è tornato Oh yes L'ho scampato di nuovo raga Oh yes Oh yes Sto mentendo spudoratamente Ma abbiamo vinto Uh, di nuovo Raga Oh mio dio Assassina di nuovo Che bello È giusto per testare la skin raga Tutte queste volte che faccio l'assassino Perché vogliamo testare la skin Raga Dobbiamo uccidere Patalesa Perché ha sempre sospetti su di me Facciamo finta di fare una task Sabotiamo Patalesa è il mio È il mio obiettivo Lei dubita sempre di me Non ho ancora ucciso nessuno Ho il vantaggio di fare l'assassino E non uccido mai la gente Perché Perché mi faccio troppi scrupoli In questo gioco È la seconda volta che uccido Benedetta Però devo uccidere Ecco Cadavere trovato Abbiamo vinto Abbiamo vinto Resta l'ultima persona da uccidere Raga Sta facendo faville Questo 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 vampiro Dai Lucrezia Dimmi che ho dato pata Grande 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 Oh yes Questa volta è finita Due volte assassina Raga Uh ragazzi Siamo saliti di livello Con queste due partite Abbiamo sbloccato Di nuove i baffi Vediamo questa volta Su chi li sblocchiamo Perché alcuni oggetti Possono essere sbloccati Su altri personaggi Quindi non importa Se voi avete già sbloccato Quello oggetto Però potete anche Risbloccarlo Su un altro personaggio Va bene ragazzi Io vi invito sempre A lasciare un bel like Iscrivetevi al canale Condividete questo video E noi ci vediamo In un prossimo video Soprattutto non dimenticate Di seguirmi su Twitch Perché giochiamo Insieme a Suspect Alla prossima Ciao a tutti Soprattutto non dimenticate 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 Soprattutto non dimenticate